Ok ragazzi, Mosca per ritorsione contro l'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea ha deciso di bloccare, tra gli altri siti di informazione, Rai, la Sette, la Repubblica e la Stampa. Evidentemente facevano troppa concorrenza a Soloyov. E a queste condizioni che cosa potrà mai andare storto? Dobbiamo ammetterlo, i russi sono troppo avanti. Noi è da un anno che andiamo avanti a colpi di petizioni per rimuovere la propaganda di Nicolai Lillin. E invece Putin cosa fa? Con un gesto della sua penna d'oro elimina la Sette e quindi in un colpo solo silenzia, oltre a Nicolai Lillin, Di Battista, Travaglio e Santoro, i principali propagandisti russi. È una notizia straordinaria, quasi quanto scoprire che il precedente ministro per la difesa russo, e cioè Shoigu Gerasimov, è indagato e ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra contro l'umanità. Il ministro della difesa russo, che come tutti sapete è il risultato di due uomini che vivono in simbiosi, Shoigu e Gerasimov, è ricercato perché ha colpito bersagli civili senza farsi troppi problemi. Anche questa è una buona notizia, perché finalmente la Corte Penale Internazionale interviene contro chi non si fa scrupoli e bersaglia principalmente dei poveri innocenti. Naturalmente la richiesta di arresto è solo ed esclusivamente una misura cautelare, il processo vero e proprio deve ancora svolgersi, però da un certo sollievo sapere che chi dà l'ordine di lanciare dei missili ad Bipan nelle città perché questo è l'unico modo di colpire qualcosa, è tenuto a rispondere ad un'autorità superiore. A parte questo è impossibile citare Shoigu e Gerasimov senza ricordarsi anche di Prig. Ieri ricorreva l'anniversario della sua scomparsa, vi ricorderete tutti di Prigozine. Il cuoco di Vladimir Putin, l'uomo di sua fiducia, il fedelissimo che è rimasto tale fino a quando è diventato il capo della Wagner e ha sbroccato di brutto brutto brutto, montandosi la testa e pensando di poter cambiare la Russia, muovendo guerra non tanto al suo signore padrone, cioè Vladimir Vladimirovich, quanto per l'appunto a Shoigu, accusato di non fornirgli sufficienti proiettili e di gestire malissimo il conflitto. Ricorderete che a un certo punto della storia Prig ha addirittura deciso di muovere i suoi mercenari contro il ministero della difesa di Mosca e per fare ciò ha spostato le sue truppe prima a Rostov e poi stava sportivamente andando dalle parti del Cremlino giù di lì. La cosa divertente e interessante è che praticamente non c'era nessuno a fermarlo. La leggenda vuole che Lukashenko, il presidente della Bielorussia, sia intervenuto come mediatore e abbia procurato un vantaggiosissimo accordo per Prig. Prig rinunciava a qualsiasi atto di sedizione e in cambio zio Vlad l'avrebbe perdonato, spedendolo in esilio in Bielorussia. Ed effettivamente per perdonarlo zio Vlad l'ha perdonato, tuttavia un paio di mesi dopo l'aereo di Prigozine è comunque saltato per aria. Pare infatti che Prig, per non annoiarsi durante il volo, si sia messo a giocare a palla avvelenata con Utkin il suo braccio destro utilizzando delle granate senza sicura. Sono incidenti che purtroppo possono capitare a chiunque. E comunque, visto che da allora è passato un anno, i russi hanno deciso di commemorare Prig. Infatti, nell'arco di questo anno è stato eretto qualche monumento in suo onore, per lo più delle statue a grandezza naturale, e i russi effettivamente lo hanno onorato portando fiori, bandiere, magliette della Wagner che hanno lasciato nei pressi. E, benché Prig si fosse mosso contro Vladimir Putin, in realtà più contro Shoigu e Gerasimov che Vladimir, la polizia ha lasciato fare. Il gruppo WV non rappresenta più un pericolo per nessuno, tra l'altro gli appalti che si era giudicato sono finiti ad altri gruppi di mercenari che fanno capo ad altri oligarchi, quindi tutto quello che resta della WV è letteralmente il ricordo di Prig e qualche sopravvissuto che attualmente sta servendo, o con l'esercito russo, o per l'appunto è un contractor che serve un altro datore di lavoro. L'opinione generale è quello di pensare che Prig si ritenesse A. Indispensabile per zio Vlad, cosa che effettivamente non era, e B. Credere che zio Vlad portasse verso di lui una simpatia e un rispetto particolari, o che perlomeno zio Vlad fosse uomo di parola. Evidentemente, quando Vlad si era accordato, aveva garantito l'incolumità di Prig, ma come ripeto, due mesi dopo si è verificato questo stranissimo incidente aereo. E Prig ha raggiunto tutti gli altri oppositori di zio Vlad due metri e qualcosa sottoterra. Diciamoci le cose come stanno, ormai dopo 24-25 anni di governo con il pugno di ferro, a zio Vlad restano ancora pochissimi amici, vivi. Fra questi la copia nordcoreana di Xi Jinping, Kim Jong-un. Questa immagine, che abbiamo già pubblicato precedentemente, mostra Kim mentre guida l'automobile che Vlad gli ha regalato. Tanto lo sappiamo perfettamente, per le Aurus non ciò è mercato. Sarebbero delle bruttissime copie di un'auto di lusso, tipo le Maybach, oppure ancora le Rolls Royce, ma il punto è che costano tanto, ma non forniscono le stesse sensazioni o lo stesso lusso. E quindi restano nei concessionari russi. Beh, comunque sia, qui Kim e Vlad stanno valutando l'ipotesi di fare una deviazione per Maro Lago, per fare visita al terzo uomo della loro squadra, ma che al momento anche lui ha qualche problemino con la giustizia. Ma il punto è che questa visita, e soprattutto l'accordo di mutua assistenza fra il Nord Corea e la Russia, non è piaciuto moltissimo alla Corea del Sud. Infatti, subito dopo la partenza di zio Vlad dal Nord Corea, il Sud Corea, e cioè Seul, ha convocato immediatamente l'ambasciatore russo. L'ambasciatore russo si è sentito fare un lunghissimo discorso sulla responsabilità della Russia come stato membro dell'ONU e addirittura membro del conspermanente del Consiglio di Sicurezza. La Corea del Nord è stata sanzionata nel 2006 anche grazie al voto della Russia, mentre adesso si ribalta la situazione. Non è una cosa carina, anche perché fino ad oggi Sud Corea si è limitato a fornire all'Ucraina aiuti umanitari. Ma dato che adesso c'è questa alleanza di ferro fra Nord Corea e Russia, i sudcoreani hanno tenuto a far sapere a zio Vlad che qualora il bullone di un'arma russa dovesse finire al Nord Corea, allora loro si ritengono liberi di fornire agli ucraini tutto quello che desiderano. E a questo punto zio Vlad ha fatto sapere indirettamente dopo qualche ora o forse dopo addirittura un giorno o due che questo potrebbe essere un grande errore da parte del Sud Corea. Dopodiché ha ripreso la palla al balzo per profferire le solite minaccioni nucleari. Qui lo vediamo compiaciuto in versione di Jay Estivo mentre afferma che se non vincerà il conflitto in Ucraina lui andrà comunque fine in fondo. E questo perché, come abbiamo già visto in altri video, per zio Vlad la guerra contro l'Ucraina è letteralmente un conflitto esistenziale per la Russia. Nel senso che se dovesse perdere la Russia non sarebbe più percepita come una superpotenza e quindi sarebbe sostanzialmente finita. E per Vlad la Russia non può essere finita. Ora, questo è naturalmente il suo punto di vista. Il nostro punto di vista è che naturalmente non possiamo piegarci alla prima minaccia nucleare fatta dal primo dittatore che passa. Perché comprenderete perfettamente che se ci pieghiamo una volta dovremmo piegarci sempre. E a una certa età ti viene il mal di schiena a piegarti. Per non parlare di altri effetti collaterali e azioni sgradevoli che potrebbe fare qualcun altro mentre sei piegato. Quindi sì, direi che è un bel problema ma non è letteralmente neanche la fine del mondo. Perché è vero che zio Vlad ha dei missili nucleari ma è altrettanto vero che noi abbiamo la tecnologia Aegis per intercettarli e soprattutto abbiamo missili nucleari a sufficienza per trasformare la Russia in un grandissimo parcheggio. In pratica soltanto un pazzo o uno stupido potrebbe realmente utilizzare le armi nucleari per primo all'unico fine di sparire se ha fortuna per secondo. In ogni caso le minacce di Putin sono talmente efficaci che i nostri leader militari della Nato hanno deciso di farsela sotto ancora più vicino al confine russo. Infatti in Romania verrà prestata la base più grande e avanzata dell'Alleanza Atlantica. Il nome di questa base è pressoché impronunciabile credo sia Mihail Koga Cicenau ospiterà più di 10.000 uomini F-16 e poi M-Curiper cioè dei droni da ricognizione o multifunzione. Questa base praticamente si troverà letteralmente a un battito d'ali dalla Moldavia e dalla stessa Ucraina. Quindi ragazzi non so voi ma sinceramente un premio ignobel a zio Putin bisognerebbe darglielo, quello per la pace. Intendo dire in questi ultimi tre anni è riuscito a perdere 500.000 uomini decine di migliaia di mezzi ha indebolito l'esercito russo ha rovinato completamente l'immagine della Russia nel mondo che è isolata oggi ancora più di prima la Nato ha ottenuto altri due membri tutti e due sul confine russo adesso si costruisce per davvero una base in Romania un pochino più a ridosso della Russia mentre ricordo a tutti che la Nato non ha spostato un solo missile dagli anni 90 ad oggi per cui direi che effettivamente le capacità strategiche di zio Vlad sono davvero oltre la media se la Russia fosse stata una nazione occidentale qualsiasi e cioè democratica verosimilmente il presidente Vladimir Vladimirovich Putin sarebbe stato accompagnato ai giardinetti più vicini e abbandonato lì ecco e ragazzi io non posso non fare a meno di sorridere ogni volta che penso agli improbabili alleati che Putin ha raccattato in questi due anni e mezzo in particolar modo Putin ha stretto un patto d'acciaio più che d'acciaio di ferro arrugginito con il Nord Corea in base al quale se uno dei due stati viene attaccato l'altro deve intervenire in sua difesa ma voi ve li immaginate i nordcoreani che vanno in supporto ai russi? ve li immaginate? tanto per rendere l'idea questo è quello che succede quando i soldati russi utilizzano le loro munizioni cioè loro nel senso di nordcoreane in pratica esplode direttamente l'unità di artiglieria è come una roulette russa per l'appunto i soldati nordcoreani normalmente non è che godano di ottima salute o abbiano chissà quali incentivi per combattere uno dei casi più divertenti e al contempo anche più umani che mi è capitato di analizzare che mi è rimasto proprio nel cuore e nella memoria tanto è paradossale e anche divertente è quello di un disertore un giovane ragazzo che è scappato dalla Corea del Nord alla Corea del Sud ebbene, questo ragazzo che era di guardia al confine non era esattamente un tizio qualunque era il figlio di un generale e ha disertato tradendo la famiglia e probabilmente esponendola anche a dei rischi sapete per cosa? per la libertà? per la cultura? no! per i dolcetti! perché che ci crediate o no neppure i figli dei generali possono avere dei dolci in Corea praticamente lo zucchero si usa pochissimo e non è a disposizione neppure della classe più elevata questo ragazzo in qualche modo è venuto a sapere che nella Corea del Sud si mangiavano i dolci forse ne ha assaggiato uno in qualche occasione molto molto speciale e da allora ha sviluppato questa passione che l'ha portato per l'appunto a disertare detto fra parentesi il comportamento eroico è stato premiato perché una società di dolciumi ha deciso di sponsorizzare questo ragazzo cedendogli una fornitura a vita di biscottini al cioccolato e infine parliamo del battacco a Sevastopoli ora i media russi stanno mandando a manetta i video relativi alle telecamere di sicurezza dei bagni cioè praticamente delle spiagge con i lettini eccetera eccetera dove si vedono cadere dal cielo delle cose fra virgolette che colpiscono per lo più il mare la spiaggia qua e là secondo la versione ufficiale del Cremlino quelle sarebbero delle cluster bomb in realtà apparentemente non è assolutamente così perché se fossero cluster bomb non avresti un frammento qui e uno lì ma avresti letteralmente un bombardamento a tappeto quindi è evidente che si tratta dei frammenti di un missile deviato che perde qualche pezzo qui e qualche pezzo là anche perché ragazzi se prestate attenzione a quel video vedrete che non ci sono esplosioni le cluster bomb sono per l'appunto bombe esplodono mentre in realtà questi frammenti creano un piccolo cratere da impatto sollevando l'acqua piuttosto che la sabbia ovviamente il cratere nell'acqua non è che resta per molto agiti un pochino e poi le onde si normalizzano sulla spiaggia si alza la polvere poi scende ma non ci sono esplosioni e ripeto le cluster bomb sono dei cluster da decine 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 di bombe non è che ti cadono addosso 7, 8, 10 frammenti nel raggio di 100, 200 metri non funzionano così quindi anche questo è un tentativo piuttosto goffo della propaganda russa di far passare per cattivi gli ucraini ma ne parliamo se riusciamo in dettaglio domani come sempre grazie di tutto per tutto e a presto grazie a tutti grazie a tutti